Valentino, Sal, Sal, buonasera, armadio aperto, infatti sì, lo chiudiamo, non sembra che sono sexy con gli occhi, e voglio chiudere, non posso chiudere, Valeria con la gamba di un metro, comunque, allora buonasera, ci sono sempre in video in attesa di, non di gara questa tre, perché sembra sempre molto più scura nel video, sì, non è da video, oddio, la prima volta diventava un porno, stasì, allora farò vedere a Valeria il peggio di The Lady, per chi non lo conoscete, la web series di Lori Del San, io l'ho vista, dimmi tutti, ho visto pure il Game of Thrones di Lori Del San, con le voci di sto film, chiamiamolo film, la web series di merda, ecco, mentre io faccio vedere il mio outfit, se le pare, le chiudi la porta, le chiudi la porta, le chiudi la porta, le chiudi la porta, le chiudi la porta e faccio vedere il mio bellissimo outfit di stasera, che c'è il body, che è il mio mini, mini pantaloncino, lo spantaloncino, sì, sono un po' coesaurita, perché, come ho detto negli altri video, mi sono appesa da poco, quindi, no, non è questo, sento, sono una dei miei, anche, basta, vedi che mi do a Valeria, come pensate, sento, vale, scusate, ormai io posso fare dei video delle attese, ma da su, guarda su, siccione, è uscito così che si rumpo la macchina, oh, sei ucciso, e da questo, questo, vabbè, ma di questa stazione ne parleremo un'altra volta, e da questa volta che noi prenderemo un spunto, ecco, è partito vedere, alza le citazioni, che poi questo film, ma sta facendo tinta, no, va bene, e poi questo film, tipo, le donne, sono tutte bellissime, queste modelle, e io mi metto tutti, non mi chiami mai, ma è un po' senza questo indiano, che lì, non ho fatto una risposta del marco e non si può è stato chiarissimo non si può io sono arrivati tuoi ok prendete le valide non mi sembra di pulire i metri perchè sto aspettando delle persone smettila l'italiano questo è un po' di rinvole ma ora ma ora scopi scopi se è bello oh forza per quanto riguarda la vita non è una cosa che è la cosa che non mi trova se la cosa che non si è fatta una buonanza se c diciamo diciamo c'è un gioco la vita che sopra su un'altra il ben inciso o x che grande legittima ma la ricetta di un gioco e con cui non l'amore con l'amore scoppiare ok ok che cosa vuoi dimostrare che può avere tutti gli uomini che vuoi non ti passo io mi manca qualcosa ahahah con il cervello voglio farti vedere cosa è un vero uomo devo metterti in riga ma tu mi stravori un caro, amore chi ama ma chi? ma lui è fatto del film un personal trainer dall'africa con fruole è stato razzismo sono cio no non ci credo non è vero ma non è vero ma non è vero ma non è vero. la prima volta per capire c'è fatto un video con la scena fatta una primavera chiunque di parolpidia con la pagina tanti misteri la città la legge posto un futuro molto complesso per un ciclo amico mio ma non voglio abbondare eccoci che ho un giorno l'amore si esplendita amore ti voglio amore ti aspetto amore non vede l'ora di vederti allora mi fai muoio allora fammi muoio amore, cioè questo è il nome che voglio dire amore ti fai muoio no ancora ciao Doris, come stai? bene signora ma forse almeno che tu sei quando mi sono stavo facendo un casting per cercare un nuovo personal trainer autista e anche un nuovo possiamo farlo anche noi in funghi non c'è, lei chiamala l'ucraina per dire fai ciò poi giustamente tu puoi vedere un po' di casa ti metterò nel negozio salve bellezza senti cara, voglio questo lavoro a tutti cosa no 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 cosa devo fare? ho concetto, io non ho tempo da perdere mi prendo quello che vuoi lo che decidi tu ma noi ci vediamo da quel lavoro non vedi i capelli dai coniglietta un po' l'altra cosa che mi ha accaduto la mia vita ok 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 io sono fidanzata perchè c'è una volta io sono fidanzata, mia ragazza è gelosa sai che stai? e c'è il casting della segretaria? fammi due passi di pop piacere allora che esperienza? profession design io sto aspettando la grande occasione della mia vita e sono sicura che arriverò ho studiato giornalismo e sto facendo fashion design ahahah ahahah faccio due parti di pop ah perchè giustamente si fa come fare ah perchè giustamente si fa come fare non è che stai andando male spazietaria il problema non è che si chiedono cioè a fare la segretaria per fare i porti non si fa pure che pure lei ha fatto così già Mario aspetta no ehm la prima stavola di costantino favola aspetta no ma anche a finta ho già te raggiungi ehm io la bandarello aspetta no aspetta no aspetta no aspetta no dopo che scurta capire non facciamo vedere la gente di me è sembratico qualcuno non mi schiamo la gente ma si che gente e anche noi abbastanza per roma se la mia vita è l'idea di piacere per te neanche un po' di onda una rifattura non mi conosci ti conosco benissimo ho visto tutte le tue foto su facebook ma che succede? amore ci sono le propette se ti conosco benissimo per cui... io conosco benissimo tutti e poi buonazza buonazza perchè poi perchè perchè poi questo sembra sembra tipo un bordello no lui sembra proprio uno degli anni 70 andaloso da della media destinata perfetto il fuoco lo do morire stai attento tu a non spenderti precocemente perfetto adoro comprare oggetti ma lei è che si fa adoro comprare oggetti primi un completo intimo per te ti voglio partire magari tu metti primi ma perchè c'è questa gente che si vuole far vedere secondo me che si è fatto tipo sponsor e se guardare un uomo virtuale guardate un uomo ma penso che dopo di finire questo video e concluso la pagherina potenza ooooooo ma non sono lì ma non sono lì ma non sono lì ma non sono lì no ma non sono lì ma non sono lì ieri ma non sono lì ma ho detto tu sei 타 dicendo nella prima l'anno il perché e non voglio vedere l'antica e non è vero non è vero per te non è vero a se il mio cliente di un colore il mio cliente di un colore le spazzo ci conosciamo bene l'uomo giusto per me tu un corso io credo io credo io credo io credo roberto si vuole in merda città ok 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 no ma davvero ma non vediamo solo per l'opportunità all'umanità ok guadagnare in parte del posto non credo che ho visto mi dispiace veramente ma ma cosa ma non me l'aspettavo ma no io sono sconvolta ma sono sconvoltissima oppure tipo no ma io comunque ero interessata e ci tenivo a te dal lato tipo bussavi a merda poi no ma io ci tenivo a te comunque perché comunque mi ha deluso e sono uno che ci ha messo il cuore oh mio dio 11 minuti quindi queste cose le reazioni in diretta facciamo il secondo video facciamo il secondo video dove parleremo di altro ma che si dilunga ancora 12 minuti